Questo video nasce dallo scopo di sintetizzare e rendere più immediata la storia di un'opera contemporanea, evolutasi in oriente in diversi media, tra cui il videogioco, i libri, i manga, i cd, i drama e persino il teatro, e di cui esordi si collocano nel lontano 2003, per poi svilupparsi quindi nel corso di 18 anni di un racconto imperituro, fatto di diramazioni, realtà parallele, finali alternativi, che vengono ripresi, espansi ed arricchiti. Il racconto composto negli anni è complesso, non è semplice renderlo chiaro e fruibile, e soprattutto unitario e coerente, visti diversi epiloghi disponibili nei giochi e che presuppongono un lavoro accurato di sintesi e selezione, che possa restituire lo spirito autentico ed originario di un racconto pieno di fascino e suggestioni. Mentre su YouTube si potranno trovare altri percorsi che porteranno ad approfondire un aspetto particolare e le sue varie speculazioni, questo video specifico si rivolge invece a chi ha bisogno di un punto di partenza per capire la storia compresa tra Draggingard e Nier Automata, o semplicemente a chi ne conosca già la trama, ma voglia ricordarne i protagonisti e le tematiche. Ci saranno allora spoiler, ma il concetto di questo termine sbiadisce e svanisce il rapporto alla ricchezza di trama e alla particolarità di ogni singolo aspetto che il giocatore potrà scoprire giocando in prima persona ai titoli analizzati in questo video. Per esigenze narrative, infatti, alcuni aspetti vengono lasciati alla curiosità degli intraprendenti, allo scopo di creare prima di tutto un racconto fruibile e non inutilmente sovraccarico. La data d'inizio delle vicende è l'856 d.C., in una versione distorta della terra e dell'Europa medievale. Nella penisola iberica si verifica un cataclisma noto come The Great Disaster, il grande disastro, un terremoto a seguito di cui appare una misteriosa enorme città, Cathedral City. Sulla terra si inizia inoltre a diffondere la magia, ma fanno a loro comparsa anche molteplici creature sovrannaturali, tra cui si distinguono le più temibili, note come watcher, osservatori, o come angeli, emissarie di una divinità malevola intesa a punire e distruggere il regno umano. Dio è infatti il creatore potente di tutte le cose, ma vuole distruggere proprio l'uomo, in quanto esempio di un ego corrotto e di una natura fallimentare, seppure gli stessi umani non smetteranno di adorarlo, considerando le sue come prove di fede. Gli angeli sono solo l'apice delle mostruosità inviate, il cui avvento è in grado di porre fine alla stessa esistenza, ma tra le varie apparizioni che iniziano a manifestarsi, un ruolo assai rilevante lo occupano i draghi, creature superiori alle altre, acerime nemiche dei watcher che covano segretamente il desiderio di ribellarsi al dio che le ha schiavizzate e conquistare esse stesse il mondo che sono state inviate a sottomettere. I draghi considerano dio un usurpatore che li ha privati del loro originario potere assoluto dunque. Sprezzanti e assessuati spesso legheranno il loro destino con patti magici ai protagonisti delle vicende narrate. L'inaspettato e traumatico grande disastro è il portale da cui si riversano queste creature, che porteranno alla distruzione delle principali forme politiche e degli assetti geografici finora conosciuti. Cade infatti l'impero romano d'oriente, così come pure il regno carolingio, mentre, seppur fortemente mutata, pare resistere la chiesa ai cui chierici si sostituiranno i maghi, persone in grado di gestire il potere magico ormai in circolo sul pianeta e la cui organizzazione graviterà attorno al Pitagoras Institute Church, stabilitosi proprio in Cathedral City, la città misteriosamente apparsa nell'arco di una notte e nel cui interno l'Accademia di Magia cercava di comprendere ed analizzare i nuovi fenomeni succeduti al cataclisma. Nel frattempo, per far fronte alla dissoluzione delle unità governative europee, i regni si qualizzavano in un'unica entità politico-territoriale, Midgard, che tuttavia venne presto conquistata dalla stessa chiesa. Allo scopo di controllarne meglio l'intero territorio, Midgard fu divisa in quattro parti, governate però da despoti, crudeli e depravati. Correva l'anno 981, quando nacque una bambina, la prima protagonista del nostro racconto, segnata da una vita di angherie, ripudi, schiavitù e prostituzione. Inizialmente la piccola donna non aveva neppure un nome, tuttavia in vita era stata nota come Usubeni, rosso pallido, con il riferimento al colore delle foglie del ciliegio, ma anche al colore del cielo al tramonto che ricordava quello degli occhi della ragazza. In inglese essa sarà indicata semplicemente come Rose. A seguito delle violenze terribili vessazioni che le avevano a poco a poco tolto ogni briciolo di umanità, la ragazza aveva inoltre sviluppato una crudele attitudine omicida che la portò a finire i suoi giorni in carcere, malata seppur ancora giovane. Nel momento in cui ispirava Usubeni, una grossa esplosione dalla forma di un fiore magico gigantesco si verificò all'Accademia Magica di Cathedral City, spazzando via la città. Nei pressi del corpo di Usubeni, sul pavimento della sua tomba a prigione, germogliava proprio allora un fiore che metteva radici nel suo occhio destro, facendola infine risorgere, guarendola da ogni malattia e dandogli lo straordinario potere di una intoner. Questo consisteva nella incredibile capacità di modulare la realtà con la forza magica di un canto, ma la giovane capì che il fiore non era altro che un parassita, nonché un emissario di Dio, deciso ad utilizzare il suo stesso corpo come tramite per portare sulla terra distruzione e apocalisse. La ragazza cercò quindi di strappare il fiore dal suo occhio, senza tuttavia riuscirvi, e allora provò a darsi la morte. Il suo tentato suicidio risultò vano, ed anzi, dal suo sangue nacquero altre cinque intoner, copie della sua personalità livorosa, generate dal fiore e chiamate ciascuna come un numero, mentre la ragazza, essendone la loro capostipite, si battezzò Zero, decidendo di cacciare e uccidere le emanazioni che mettevano in pericolo il mondo stesso. Nel frattempo le sorelle di Zero erano state acclamate come salvatrici ed infine venerate come divinità, poiché avevano liberato i quattro regni di Midgard dai loro stessi despoti oppressori, sostituendosi poi a quelli. In verità però tutte le intoner celavano tratti fortemente instabili ed aspetti molto spesso sadici, dovuti all'odio per il mondo di Zero che tra la nascita l'aveva vessata e infine sacrificata. Il loro carattere oscillava da una momentanea e intensa passionalità, ma anche ad un repentino e naturale distacco, anche se a salvarsi, conservando tratti molto più positivi che sembravano essere principalmente One e Two. Guidata da un forte senso di giustizia e moralità opposto al carattere vendicativo e suicida della sorella Zero, One in segreto escogiterà un piano di riserva per evitare che fosse sconfitta, clonando da se stessa un gemello maschile. Un primo confronto tra le intoner si svolse proprio a Cathedral City, luogo dove i poteri di One risveglieranno una massa viscosa e nerastra a forma di gigantesco fiore nero. Questo era stato evidentemente sigillato e allontanato in precedenza dai maghi della chiesa ed era stato ora liberato. Probabilmente da un suo frammento, sfuggito alla prima chiusura del sigillo e ricordato dalla grossa esplosione mentre Usubeni moriva, che ebbe forse origine lo stesso fiore parassita della prigione. Ciò che fu chiaro è come il manifestarsi del fiore nero evocò sulla terra gli angeli, i temuti Watcher, apostoli di un dio deciso a scatenare l'Apocalisse ed ora visibili nel cielo in forma di giganteschi famelici neonati. Le intoner erano state create dunque per essere i tramiti della rovina, ma fortunatamente, almeno per il momento, l'evento fu scongiurato e gli osservatori ricacciati nella loro dimensione, attraverso un patto delle intoner con i draghi, nemici giurati del fiore parassita e del dio che lo aveva inviato e che riuscirono a ricacciare la minaccia da dove era venuta. È bene sottolineare come questa lotta tra le creature mitologiche e una divinità invisibile sia tra i punti nodali delle vicende in atto. In particolare, Zero sarà alleata di un drago bianco, Mikhail. Wan, invece, condividerà i suoi scopi con un drago nero, Gabriel, in un rapporto magico denominato Patto, che legherà il potere, la vita, ma anche la morte delle coppie coinvolte. La resa dei conti tra le sorelle clone non era che rinviata e una seconda violenta battaglia tra l'intonera e i loro draghi vide mettersi male le cose per zero, che perse addirittura un braccio, sostituito immediatamente da una protesi animatasi grazie alla volontà del fiore parassita. Ora però fu la volta della trionfale marcia della capostipite Zero sulle sorelle, che in un terzo scontro uccise e sconfisse le altre cinque. Proprio quando la vittoria della ragazza con il fiore nell'occhio era completa, emersa alle sue spalle il clone di Wan, tenuto fino all'ora segreto e che, inaspettatamente, porrà fino all'esistenza tormentata della intoner, da cui tutto aveva avuto inizio. Da allora il gemello comincerà a spacciarsi per la sorella morta, Wan, e fonderà nell'anno 1000 un culto per celebrare l'intoner defunte. I suoi partecipanti andavano così a comporre il culto dei Watcher, noto ancora come la Chiesa degli Angeli, i cui adepti erano paradossalmente volti a venerare le entità maligne che li avrebbero distrutti. Il controsenso nasceva anche dal fatto che le intoner erano state acclamate come salvatrici e venerate come divinità benevole in quanto avevano eliminato i despoti dei regni di Midgard, mentre in verità esse erano state create per distruggerla. Proprio a causa della morte delle sorelle, che erano anche le reggenti di diversi regni, gli equilibri geopolitici mutarono ancora e gli stati di Midgard iniziarono una lunga guerra civile, mentre una nuova piaga veniva scoperta. Si trattava dei Seeds of Destruction, i semi della distruzione, noti anche come semi della resurrezione. Essi si figuravano come delle gigantesche sfere, disseminate per il pianeta da cui si espandevano i focolai di bestie e creature mostruose flaggello della razza umana. Chi entrava nella bolla, infatti, vi usciva trasformato, assetato di distruzione e morte, mentre ciascun seme sparso per il mondo ne replicava la forma, per andare a costituire a poco a poco un esercito sanguinario. Appaiono dunque come artefatti utilizzati dalla divinità antagonista, sempre invisibile e letale, di cui solo in seguito si scoprirà la loro vera creazione ad opera dei draghi. La loro simbologia, oltre a ricordare quella floreale somigliando questi a spore, resta volutamente ambigua, essendo ancora chiamati come Seeds of Resurrection, poiché in grado di dare vita anche a nuove specie. Ad ogni modo, per contrastare questa nuova piaga che annunciava la fine del mondo, il culto dei Watcher, o la Chiesa degli Angeli, crea il Seed System, ovvero il sistema sigillo. Si venne a scoprire in pratica che le creature e la magia provocate dal grande disastro dell'856 provenivano da una infinita e inimmaginabile fonte di potere extradimensionale, il Great Time, che gli umani avevano imparato a manipolare attraverso il miracolo della magia stessa. Il sistema sigillo isolava i Seeds of Destruction e la stessa entità divina che gli aveva emanati, lontani dalla terra, ed era organizzato attraverso quattro sigilli, appunto, tre sparsi per il mondo, il quarto rappresentato e protetto dalla dea del sigillo. Questa era una sacerdotessa in carica, la cui prima candidata fu proclamata nel 1012 e che sarebbe stata isolata e sacrificata al suo compito, andando sempre incontro ad un testino fatale e tragico. Fu la seconda dea del sigillo, nominata nel 1017 a generare lo scandalo del clone di Wan, fondatore del culto stesso dei Watcher che presideva il Seed System e il cui allontanamento si verificò anche perché sentimentalmente coinvolto con la guardiana. Scoperto che il ragazzo era un impostore di Wan e non la sorella che diceva di essere, la storia segnò il pretesto finale per emarginarlo ed esiliarlo lontano dal suo stesso ordine. Egli incontrerà Rosa nel 1024 e dai due ebbe origine una dinastia che tuttavia, inaspettatamente, riporterà una sua nipote, Manà, a ricoprire il ruolo di leader del culto dei Watcher e dunque a presiedere il controllo dei sigilli. Nel sangue di Manà dunque scorreva inevitabilmente la stessa discendenza di Zero, in toner creata ad un solo scopo, la cancellazione dell'essere umano, doppiamente pericolosa proprio perché inconsapevole delle sue terribili potenzialità. L'evento catastrofico si verificò con la tredicesima dea del sigillo, Furie, e i tentativi del fratello Kaim di salvarla, in groppa al suo dragone rosso Angelus. Manà, ormai posseduta dagli osservatori extradimensionali, rivelò i sentimenti incestuosi che Furie provava per il fratello Kaim e la tredicesima dea, non potendone sopportare più la vergogna, si tolse la vita rompendo l'ultimo sigillo rimasto ed evocando i terribili angeli sulla terra. Essi si manifestarono di nuovo come neonati giganteschi, mentre una gigantessa nota come la regina bestia o la madre degli angeli ne accompagnava l'apocalisse finale. Per alcune speculazioni non confermate, essa sarebbe addirittura l'evoluzione attraverso il fiore di Zero. A quel punto però Kaim salì di nuovo in groppa al suo dragone rosso, deciso comunque a scongiurare il catastrofico epilogo, ma il trio cadde, ispiegabilmente, in un varco dimensionale. Siamo ad un finale alternativo, il quinto ed ultimo, il cosiddetto finale E, del primo videogame di Dragengard, che darà origine all'intreccio di Nier, un complesso spin-off del titolo da cui parte e di cui assorgerà a pari livello per importanza e storia artistica, capace di scindersi dal fantasy allo sci-fi puro, ma coltivandone pur sempre l'impianto filosofico. La radice comune è giustificata anche da espedienti interni alla storia raccontata, visto che il grande disastro accaduto nel mondo di Dragengard, il terremoto della penisola iberica è responsabile del Multiple World Divergence Phenomenon, una scissione di eventi che da una causa comune divergono negli effetti, sdoppiandosi in realtà parallele in cui gli stessi protagonisti danno origine a una storia differente. Tale fenomeno si verifica quando un gruppo di singolarità, in special modo esseri senzienti di natura in parte sovrannaturale, in parte extradimensionale, i draghi ad esempio, si radunano assieme dando il via alle divergenze. Se infatti il mondo di Dragengard continuerà la sua evoluzione indipendentemente, il mondo di Nier, che trae origine dal primo, snoderà le sue vicissitudini su un pianeta apparentemente simile alla nostra Terra, in una maniera che adesso racconteremo. Prima di farlo è bene chiarire all'ascoltatore che il titolo si differenzia ulteriormente per le sue versioni, entrambe pubblicate in oriente. Nier Gestalt, che approderà col semplice titolo di Nier in occidente, e Nier Replicant, esclusiva all'epoca del pubblico giapponese, che oltre al diverso design del personaggio e una timeline lievemente differente, muterà i rapporti dei protagonisti, legati invece che da un legame padre-figlia da uno fratello-sorella. Al di là di questi aspetti, le evoluzioni della storia nel videogame sono le medesime, ma la versione per il mercato occidentale riguarda il rapporto padre-figlia, e dunque sarà la parte che seguiremo maggiormente. Inoltre, un remake con probabilmente nuovi sviluppi e approfondimenti di Nier Giovane, ossia Nier Replicant, è stato reso disponibile per il mercato occidentale. Tornando allo scontro finale tra l'eroe Kaim e il drago Angelus e la bestia madre, un varco dimensionale si apre trascinandoli incredibilmente in un'altra dimensione, che sembrerebbe essere proprio il nostro mondo moderno. È precisamente a Tokyo, nel 2003, dove la battaglia tra gli intrusi extradimensionali continua tra oceani e palazzi, segnando la vittoria del Cavaliere alato, mentre la gigantessa grigia si dissolve in uno strano polviscolo grigiastro simile al sale. Interviene dunque la Japan Air Force, che abbatte e uccide gli intrusi alieni Angelus e Kaim. L'episodio venne classificato come 612, prendendo proprio come riferimento il giorno del 12 giugno in cui si era svolto l'inquietante scontro. L'evento però non terminò con il decesso dei protagonisti. La disgregazione della gigantessa in fiocchi di polvere nell'aria parve causare inizialmente nel circoscritto quartiere di Shinjuku la trasmutazione degli abitanti in statue saline. Tale morbo prese il nome di VCS, ovvero White Chlorination Syndrome, poiché la pelle si solidificava in una sostanza simile al cloruro di sodio e per evitare che dilagasse ulteriormente venne costruito un anello di mura attorno allo stesso quartiere, il Gerico Wall. Quello che ancora si ignorava era infatti che la persona infettata dalla VCS si trovava a contatto con la divinità, la quale gli proponeva di rinunciare alla sua volontà e diventare suo schiavo per la distruzione del mondo. Il rifiuto portava inevitabilmente alla trasformazione in statue di sale. Ma per alcuni che rinunciavano c'erano molti che accettavano e nel 2008 il Gerico Wall cedete dall'interno, riversando una legione sempre crescente di infetti bianchi e a cui si decise di rimediare ricorrendo alle testate atomiche. Sebbene in un primo momento queste sembrassero aver funzionato, avevano in realtà causato la contaminazione per il disgregarsi in polveri degli infetti per aria e per mare, che costò il diffondersi del morbo in ogni angolo del pianeta. Alla base di questa infezione si scoprì esserci il Maso, una particella magica extradimensionale portata dalla gigantessa quanto dal drago Angelus, i cui studi ne permisero la conoscenza ma anche l'utilizzo per tentare di contrastarne l'infezione stessa. Se infatti la particella permetteva l'ascissione dell'anima dal corpo allo scopo di essere convocati da un dio assassino e ricattatore, allo stesso modo si arrivò a gestire quel procedimento per mettere al sicuro le anime delle persone, i cui spiriti vennero denominati Gestalt, nel frattempo che l'epidemia non fosse totalmente sconfitta. Tale processo di Gestaltizzazione prevedeva pure la creazione di una copia del corpo della stessa anima Gestalt, involucro detto invece Replicant, un guscio in sostanza labilmente senziente. I Replicant, essendo privi di anima e dunque immuni al contagio del morbo, potevano inoltre essere utilizzati per scontrarsi con la legione degli infetti. Parallelo e complementare al progetto Gestalt, nacque quindi il progetto Replicant che fu automatizzato con l'ulteriore creazione di androidi che dovevano occuparsi della continua costruzione dei Replicant, i recipienti corporei in cui a pandemia terminata le persone si sarebbero potute risvegliare. Nonostante la disapprovazione iniziale della popolazione, il progetto Gestalt continuò, arrivando a comprendere un piano di rientro automatico e forzato delle anime al corpo attraverso i grimoire, grimoori, ovvero degli archivi sotto forma di libri volanti senzienti che raccoglievano più anime e dotati di straordinari poteri, sospesi tra una natura magica ed una scientifica. Dei tredici grimoiri conosciuti i principali furono il grimoire Weiss, dal tedesco bianco, e il grimoire Noir, dal francese Nero, entrambi in grado di elargire e scatenare una straordinaria potenza e che se fossero stati attivati simultaneamente avrebbero causato quindi l'irreversibile rientro automatico di una Gestalt nel corpo del suo replicant. Bastava inoltre toccare uno di questi tomi perché si avviasse nella persona che vi interagiva il processo di scissione dell'anima. E però lo stesso progetto Gestalt non era immune da controindicazioni. Si era scoperto che più le anime erano lontane da un corpo materiale, più queste tendevano ad un cosiddetto rigetto che portava a trasformarle in anime perse, ombre malefiche in grado di nuocere, il cui destino finale era la follia e la morte. Al fine di equilibrare lo scompenso delle anime fu tentata la ricerca di una Gestalt originale, un soggetto cioè immune da rigetto stesso e che così avrebbe potuto fornire il suo stesso materiale genetico per stabilizzare le altre anime. L'individuo fu identificato nel 2049 in un uomo di nome Niar, convinto al patto in virtù della sua figlia malata Iona, che stava andando incontro proprio a rigetto dopo aver subito la Gestaltizzazione. Gli scienziati, con la promessa di trovare una cura, decisero di tenerla in uno stato di stasi chirogenica, mentre Niar gli aiutava a stabilizzare le Gestalt dormienti. Nel mentre i Replicant riuscirono a debellare definitivamente la legione degli infetti, ma accade qualcosa che era facile intuire. Attorno all'anno 3000 i Replicant cominciarono a sviluppare infatti una propria coscienza e mentre le Gestalt iniziavano a risvegliarsi, soltanto alcuni Replicant ne accettavano rientro, cedendo praticamente la propria senzienza e il proprio corpo. La maggior parte dei Replicant, invece, oltre a rifiutare l'accoppiamento, iniziò a temere le anime umane, note come shade, ombre, cioè livorose e volenterose soltanto di rapire i loro corpi. Colui che stabilizzava Niar divenne invece noto come Shadowlord, in quanto ne permetteva la rimanenza in vita. Convinto ancora di poter salvare la figlia Iona, decise di rintracciare i due Grimoire ed attivarli, contando sul ritorno automatico che si sarebbe verificato delle Gestalt verso i Replicant. Shadowlord era già in possesso del Grimoire Noir. Speculari ai due personaggi dello Shadowlord e della figlia malata, ormai Gestalt, dormiente, fanno la loro comparsa a questo punto proprio i loro due Replicant, Niar e Iona, quest'ultima anche malata come la sua controparte umana. Se infatti una Gestalt andava incontro a un rigetto, anche il suo Replicant contraeva la cosiddetta Black Scroll, la malattia dello scarabocchio nero, ovvero una sorta di malfunzionamento dovuto alla corruzione del Gestalt stesso, di cui il Replicant è una copia di dati. Niar, invece, era riuscito fortuitamente ad entrare in possesso del Grimoire Ways, anche se il libro aveva perso la memoria, rivelandosi comunque un formidabile compagno d'avventure e tuttavia non unico. Nelle loro peripezie finirono infatti ai Replicant Niar e Iona anche personaggi come Kaine, una ragazza ermafrodita e marginata dalla sua stessa comunità, il cui vestiario era inteso a enfatizzare proprio per questo le sue caratteristiche femminili, ma anche per lasciare la maggior parte della sua pelle scoperta al sole. Kaine era infatti infetta da una shade di cui non era il Replicant, ma che comunque tentava di prenderne il corpo, che però proprio l'esposizione al sole impediva. Alla bellezza di Kaine si aggiunge anche quella di Devola e Popola, una cantante e una bibliotecaria che nascondono in verità il compito segreto di sorvegliare e garantire la riuscita del progetto di rientro del Gestalt nei Replicant e che per questo finiranno per divenire ostili al gruppo di Niar. Altro personaggio importantissimo è Emile, uno sfortunato ragazzo bendato i cui poteri sono in grado di pietrificare chi ne incontra lo sguardo. Il giovane si scoprì essere parte di un esperimento di migliaia di anni precedente, che l'umanità aveva tentato con il Maso in maniera da costruire un'arma alternativa al progetto Gestalt contro la Legione. Di questo tentativo faceva parte anche la sorella, con cui alla fine Emile si ricongiungerà spiritualmente e fisicamente, diventando una cosa sola, dando vita ad un essere grottesco e scheletrico ma insospettabilmente potente. Emile è uno dei personaggi ricorrenti nella storia, usato come avatar dallo stesso Yoko Taro, direttore creativo e sceneggiatore di Drakengard e Niar, e che nelle interviste nasconde dietro una maschera il suo volto. Tornando alla storia, la compagnia di Reietti fonda il suo nucleo nell'aver trovato finalmente qualcuno che gli accetti, che non si spaventi per la loro diversità e persino il grimoire inizia a sviluppare sentimenti d'affetto. A questo punto, però, lo Shadowlord riesce a rapire la replicante di Iona per farla ricongiungere all'anima della figlia, costringendo allo scontro finale Niar, che soltanto grazie al sacrificio di Emile riuscirà ad abbattere Devola e Popola, rivelate se infine nemiche e protettrici del progetto Gestalt. Un altro sacrificio, stavolta del grimoire Weiss, fu molto significativo, poiché il Grimorio Bianco rifiutò di eseguire quello per cui era stato originariamente pensato, ovvero unirsi al Grimorio Nero dando il via a rientro. Le sorti finali della battaglia, però, verranno decise da Iona stessa ed in particolare della sua Gestalt che si era riunita finalmente al Replicant, ma che implorò lo Shadowlord suo padre di cessare il combattimento. Essa aveva sentito piangere in quel corpo la figlia Replicant di Niar, che aveva chiamato anch'essa il papà, impaurita e sofferente. Da qui la decisione dell'originale di non volere più un corpo che ormai non gli apparteneva ed anzi aveva sviluppato una nuova anima. Per questo alla fine la Gestalt di Iona decise di suicidarsi, abbandonando il suo Replicant mentre un addolorato Shadowlord si scagliava su Niar, che infine lo sconfisse, segnando in pratica l'estinzione del progetto Gestalt e delle speranze dell'umanità. Senza l'elemento stabilizzante fornito dallo Shadowlord, infatti, le Gestalt sarebbero andate incontro al rigetto e alla morte seguite così dai loro gusci, infettati dal Black Scroll. Resistettero soltanto le poche unità Replicant che in precedenza si erano riunite alla loro Gestalt. L'ultima anima rimasta invece, una Gestalt ormai anch'essa tramutata in Shade, morirà infine nel 4198. E il gruppo di Niar? Un'integrazione significativa degli eventi finali verrà fornita in una short story mai tradotta ufficialmente e che riguarda la versione del Niar giovane. In questo racconto i protagonisti della vicenda, che si erano sacrificati per lo scontro finale, riescono a sconfiggere persino la loro morte e si riuniscono assieme. Tali congiunzioni narrative molto spesso servono a giustificare e a far collimare perfettamente diramazioni impreviste di un racconto che nasce progressivamente e che, per evitare paradossi o, peggio, incongruenze, ha bisogno di evidenziare e creare nessi all'interno di un maelstrom formale che ne rispecchia la natura magmatica ed affascinante e che, in definitiva, risulta funzionale all'enorme materia sviluppata. Proprio come il finale citato, che serve a riprendere la figura di Emil che avrà ancora un peso enorme nella storia. Nell'anno 5012 la Terra verrà però invasa dagli alieni, pronti a scontrarsi con gli androidi che avevano fondato l'esercito dell'umanità, dando vita ad un conflitto noto come Guerra delle Macchine. In questo frangente ritroviamo anche Emil, in qualche modo immortale dunque, che per far fronte all'invasione clona 85 milioni di sue copie, ma la recrudescenza del conflitto porterà all'invio da parte degli invasori alieni delle fortissime biomacchine sul pianeta Terra, troppo forti per essere definitivamente sconfitte. Nell'anno 11.939 l'umanità restante pare essersi rifugiata sulla Luna per creare androidi più evoluti, come gli Iora, parola che tuttavia indica anche una forza militare d'élite distanza sulla tredicesima base orbitale, nota come bunker. In realtà quella degli umani superstiti è solamente una melanconica bugia che serve ad alimentare uno scopo nelle unità Iora combattenti rimaste sole. Siamo arrivati al finale, almeno per il momento, di questo incredibile racconto ed alcune considerazioni le lascio umilmente a margine. A partire dal registro utilizzato, un impianto inizialmente fantasy dell'incipit della storia, fatto di draghi e creature fantastiche, trasformatosi via via in una realtà alternativa assai più fantascientifica, donando alla saga un tono sospeso tra magia, natura e tecnologia. Impossibile ignorare il tema erotico, fortemente impellente in un'opera sessuale dal primo all'ultimo capitolo, il cui voyerismo esplicita la prorompente vitalità in un contesto di rovina e morte, cucendo nella ferita del nichilismo l'eterno abbraccio di Eros e Thanatos. Non pochi problemi per il mercato occidentale deve aver causato la stessa visione religiosa che permea l'opera, con il dio creatore malvagio che vuole distruggere la razza umana, ed infatti per evitare parallelismi con la chiesa reale, la traduzione occidentale opta per l'addizione di dei, piuttosto che per il nome al singolare. Non è tra l'altro nemmeno l'unica variabile dell'adattamento occidentale, per cui Iona, come abbiamo visto, sarebbe la sorella piuttosto che la figlia di Nihar. Ma le sfumature religiose sono più che esplicite, basti pensare alla trasmutazione di statue di sale, o alla nomea Gerico per il muro che voleva inizialmente isolare la legione. Possiamo comunque constatare di come il frasario e l'immaginazione della monumentale storia che compone l'affresco tra Dragengard e Nihar, consta di oggetti apparsi da altre dimensioni, nomenclature bibliche, approcci nichilisti e richiami a personaggi sofferenti e depressi, sempre sfumati e insieme contraddittori, che danno una prima intuizione dell'ispirazione più evidente alla base di questo costrutto, ovvero sia Evangelion. Tuttavia, il richiamo a creature extradimensionali, soprattutto la divinità malevola, inquietante e invisibile, ricorda nell'invenzione più che nell'atmosfera gli espedienti di un Lovecraft. La fitta rete di simbologie come il fiore, l'elemento femminile, i draghi e le gestalt portano a corrispondenze e riflessioni di stampo poetico e filosofico che culminano nella constatazione finale del giocatore umano, che si trova col joystick dall'altra parte della storia e che sta assistendo alla straniante scomparsa della sua stessa civiltà. La malinconia e la lontananza diventano sensazioni sospese come brina nella memoria, per un'estinzione non vissuta eppure possibile ed in fin dei conti singolarmente sperimentabile. Sono sentimenti che è possibile provare in un altro contesto, quello di un romanzo di fantascienza americano degli anni 50, intitolato Anni senza fine, noto anche come City di Clifford e Simak, dove varie specie si succedono dopo la fine della razza umana. L'uomo è ormai una creatura mitologica, qualcosa che forse addirittura non è mai esistito, certamente estinta da milioni di anni, un concetto poco battuto e che tuttavia si ritrova in niera automata. Che cos'è l'uomo? Si chiedono i protagonisti non umani nel libro di Simak. Oppure che cos'è una città? E ancora che cos'è una guerra? Ma non c'è più una risposta precisa a domande di questo genere. Tornando in Oriente, un'altra suggestiva fonte di ispirazione, o perlomeno un contesto similare per melanconia del post-umanesimo, si ritrova in Blame, manga di Tsutomu Nihei del 1997, le cui atmosfere ancor più estreme e laconiche di Nier designano una contestualità infestata da esseri di silicio e creature tecno-organiche. A rendere spiritualmente di affini le due opere è in particolare il concetto di umanità, ormai nell'essenza ridotta a qualcosa di totalmente differente da come comunemente intesa e dunque in Blame metaforicamente estinta, ed anche dei costruttori, ingegneri colossali impegnati all'infinito nella costruzione di megastrutture, città artificiali dalla folle architettura e che ormai hanno perso il loro stesso significato. Guardiamo la storia di Drakengard e le sue evoluzioni, la fastellarsi di trame, sottotrame, vicissitudini ed episodi, e ciò contribuisce a creare nella nostra percezione l'idea di un mondo vetusto, ricco eppure innegabilmente vivo, proprio come il nostro, di cui l'ambientazione del videogame è un continuo sdoppiamento. Eppure, giunti al capitolo finale, ricordiamo cosa significa essere umani perché lo vediamo nelle movenze e nelle ricerche dei non umani. Amare, riprodursi, divertirsi, le macchine ripetono continuamente dei gesti ormai vuoti, privi di desiderio, cercando di continuare il lavoro per cui erano state create e per cui non c'è più nessuno a goderne. Eppure, anche in questo modo, anche gli androidi più evoluti avvertono una strana, incommensurabile solitudine ed un necessario bisogno di senso. Vogliono credere ancora di combattere per la gloria dell'umanità, il moto degli Yora, che credono nascosta sulla luna, ma è realtà estinta. Per giunta combattono ancora con i lasciti delle biomacchine un nemico che è morto da millenni perché, in definitiva, hanno bisogno di quello scopo. Immortali, ma senza senso, essi avvertono lo stesso disagio dei viventi, ricordando, proprio in questa profonda solitudine e lontananza, l'ormai scomparsa specie che li aveva creati. Grazie! Grazie per la visione!